Un capolavoro del gusto con peperoni, ricotta e pomodori secchi. Raccogli i peperoni, ricotta, pomodori secchi, erbe fresche, sale e pepe. Taglia a metà e dissemina i peperoni. In seguito mettili in forno a 200 gradi Celsius. Mescola la ricotta con i pomodori secchi tritati, sale, pepe e erbe fresche. Riempi i peperoni cotti con la miscela di ricotta e pomodori. Servi i peperoni ripieni caldi, guarniti con erbe fresche. Grazie per la visione!